qui c'è una lapide ora pro nobis sembra di essere veramente in Texas guarda non si nota tutto il temorio l'asfalto non è asfalto è tutta una terra a fratti no che prendiamo pezzi in mezzo a nulla in mezzo alla solitudine in mezzo a un deserto certo che è difficile che stai facendo? dove vai? il coño sta assendo è difficile mamma mia c'è una curva c'è una curva forse è meglio rientrare meglio rientrare è bellissima è bellissima è una persona che veniamo qui guarda magari con una macchina nuova riprendi quel pezzo di strada lì non sembra vero aspetta sembra di essere sulla luna guarda che bella strada sana soprattutto sana perfetta ah non hai detto che vuole un meccanico questa è la strada che porta dal meccanico quindi cosa vuol dire? di la giarote quindi uno viene qui con la macchina con un problemino di merda arriva dal meccanico e la macchina si apre tutta come un cazzo di uomo e quindi serve il meccanico lo vedi che è utile? si serve ma rimani lì poi ti fai questa strada a piedi e poi vieni un passaggio perchè è comoda questa strada cosa? l'anzanotte non piove da quattro anni minchia è un fritto c'è la mora ma comunque siamo in giro in magliettina allo stesso si vabbè questo c'è da dire che il clima comunque sta precando però friggate qui è atterrato la ponte 64 qui è atterrato questo è il paesaggio monale è tutta la presa e sono venuti con una opelastra cabrio fai notare che è cabrio che è cabrio? è cabrio da dentro ciao sono questo è cabrio ok basta questo sta cabriando il CKM il KCM questo è il KCM è finita la terra mestruata è finita la terra rossa mestruata qui alla schierta posso farlo? si no però farlo stesso non me l'hai fatto non me l'hai fatto mettiamo la cintura con il cinturon e io appago il mobile stop no buona apri ma questa è la seconda buona la seconda è